Buongiorno a tutti. Siamo comprese tra i 20 e i 29 gradi, ma guardiamo cosa ci attende per la giornata di domenica, quando la perturbazione tenderà ad allontanarsi dal nostro territorio, ma andiamo a vedere dove saranno possibili le ultime piogge residue sulle Alpi orientali e sulle regioni centro-meridionali. Vi ricordo come sempre che per avere maggiori informazioni regione per regione potete scaricarle alla nostra app meteo.it.